Royal Family a scuola, le disastrose pagelle reali. Le prestazioni scolastiche dei membri della famiglia reale britannica, sono state recentemente al centro dell'attenzione dei media, con particolare attenzione ai risultati scolastici di alcuni suoi membri più noti. I tabloid inglesi hanno discusso ampiamente sulle performance accademiche, rivelando che molti membri della famiglia reale non hanno brillato nei loro studi. Sara Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha ottenuto buoni voti solo in inglese orale, durante gli esami della licenza media a 16 anni, risultando carente nelle altre materie. Anche Camilla, l'attuale regina consorte, non si è distinta accademicamente, abbandonando la scuola dopo la licenza media. Carlo III, attuale sovrano, ha conseguito una laurea, sebbene con un risultato non eccellente, un lower second. È stato ammesso all'università principalmente per il suo status di erede al trono. Il principe Harry, il secondo genito di Carlo, non ha avuto risultati scolastici particolarmente brillanti. Ha ottenuto una sufficienza in arte e una insufficienza in geografia durante gli esami di maturità, scegliendo poi di non proseguire verso l'università e di unirsi all'accademia militare. Diana, madre di William e Harry, ha lasciato la scuola senza conseguire alcun diploma, definendosi una testa di legno. I soli membri della famiglia reale che si sono distinti positivamente in ambito accademico sono William e Kate. William ha ottenuto voti alti in geografia, buoni in storia dell'arte e sufficienza in biologia alla maturità. Kate ha eccesso in matematica e arte, e ha ottenuto buoni risultati in inglese. Entrambi hanno completato gli studi universitari con un gap per second. In generale, sebbene la famiglia reale non sia nota per il suo impegno accademico, è inusuale trovare un livello scolastico così basso in una famiglia così in vista. William e Kate rappresentano un'eccezione positiva in questo contesto. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.